e fotografo in una realtà diversa. I dati che sono appena usciti mi dicano che la strada che l'Italia ha intrapreso è quella giusta, la dobbiamo percorrere ancora con più forza e lo diciamo anche con forza l'Europa. Per la prima volta si torna a crescere con lo 0,8, per la prima volta la pressione fiscale diminuisce, per la prima volta dopo anni aumentano gli investimenti nel nostro paese. È la migliore risposta a chi voleva il conflitto tra Europa che vuole rigidità o flessibilità. Con la flessibilità e con la crescita, con gli investimenti e con le riforme, torna a crescere l'Italia e può tornare a correre anche l'Europa. Mi sembra che sia l'unica strada che abbiamo da percorrere.